Sta fermo, sta zitto, non mettere i gomiti sulla tavola, non essere distratto, guarda dove metti i piedi, sta attento a non rovesciare l'acqua, e non lasciare cadere la penna, e non perdere i pastelli, non giocare in cortile, non correre sulle scale, non fischiare, non sbattere le porte, non strusciare le scarpe, non prendere la caccia di sesso, sta a volo perché la mamma è il mal di testa, perché la maestra è il mal di testa, perché la zia è il mal di testa, perché la portiera è il mal di testa. Non correva, non saltava, i pantaloni non trattava, non diceva, parola c'è, non faceva le nuocate, non portava i pavimenti, li lavava sempre i denti, non strillava, non brideva, i pantaloni non metteva, Senza un'occhietta, sui bambini? Tenga tutti nei bambini! Ero proprio un bambino di gesso, respirava se aveva permesso, sta a volo perché la aveva non resso, con un bravo bambino di gesso, che non risponde e non dice mai di no! Ora grande è diventato, ma non è molto cambiato, compitissimo, prudente, ossequioso, dirigente, Se di farlo al superiore, dice sempre sì signore, se gli danno sulla testa, dicendo anche nostra testa, passa il giorno a fare in fine, non assunti nei bambini! Ero proprio un uomo di gesso, che non rispira se aveva permesso, che rimane dov'è stato messo, è un bravo bravo uomo di gesso, che non risponde e non dice mai di no! Grazie a tutti!